Quello della presentazione delle liste è solo uno degli adempimenti di questa tornata elettorale per le regionali. Sin da subito, entro mezzogiorno di domenica 29 maggio, l'ufficio istituito presso il Tribunale di Campobasso, dopo averli esaminati, ammetterà o meno eventualmente gli elenchi dei candidati. Proprio l'ufficio circostizionale unico istituito presso il Tribunale della giurisdizione del capologo molisano, costituisce una particolarità delle elezioni regionali. Di solito la missione lista è espletata dalla commissione elettorale circondariale che ha sede presso i comuni capoluogo. L'organismo è stato istituito dopo la pubblicazione dei manifesti per l'indizione dei comizi elettorali, avvenuta l'11 maggio scorso. Il 16 maggio invece è stato istituito presso la Corte d'Appello di Campobasso anche l'ufficio centrale regionale, che è competente su ricorsi eventuali contro la non ammissione di liste o candidati. Ma anche le prefetture svolgono tutte le attività relative alla competenza statale esclusiva in materia di tenute revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale, tutela dell'ordine pubblico e presidio d'eseggi in occasione dello svolgimento delle consultazioni, assicurata come sempre anche l'attività di supporto e consulenza tecnico-giuridica. La regione invece cura la gestione giuridico-amministrativa del procedimento elettorale, la conseguente adozione e diffusione di direttive circolari ai comuni, la stampa delle schede di votazione e dei manifesti con le candidature, le liste definitivamente ammesse e i manifesti dei proclamati eletti. Le spese, eppure quelle derivanti di intesa con le prefetture, saranno tutte a carico della regione. Tutto è pronto dunque per lo svolgimento dell'elezione e come sempre saranno poi le urne a indicare uomini e programmi per i prossimi cinque anni di governo del Molise.